buongiorno sono pubi avati faccio il regista cinematografico realizzato di recente un film dal titolo le nostre di laurea per rai 1 andrà in onda il 7 dicembre su rai 1 alle 21 10 è un film molto molto particolare la mia pur lunga filmografia un film che racconta come una storia d'amore in qualche modo quasi impossibile diventi possibile l'ho realizzato utilizzando soprattutto attori anche i protagonisti praticamente inediti attori che vengono dalle varie scuole di recitazione e soprattutto dalla scuola di recitazione dove mi sono trovato a chi insegnare l'accademia artisti di roma io mi auguro che siate in tanti a vedere come gli attori del cinema italiano possono dare veramente una qualità molto molto alta vi aspetto